Domenica la Nissa giocherà in casa al Tomaselli contro il Casteldaccia, nella prima giornata del girone di ritorno. All'andata la squadra palermitana si impose con un rependorio 3-0 nei confronti della squadra bianco scudata, allora guidata dal tecnico Settineri. Gli uomini di Alessio Sferrazza si stanno allenando al meglio per iniziare l'anno nuovo la ricerca dei tre punti, per scalare la classifica e inseguire il sogno play-off, unico e vero obiettivo stagionale della Nissa. Aspettando altri colpi di mercato che i dirigenti Emma e Cancelleri possono regalare nei prossimi giorni, domenica ci saranno i debutti di Benivegna, Guadagnoli e dell'ultimo arrivato Ottaviano, che potrebbero debuttare con la casacca bianco scudata. Sugli spalti ci si aspetta un bel colpo d'occhio, data la presenza di tanti ragazzi delle scuole calcio nissene che hanno stretto un patto di sinergia con la Nissa per far crescere dei campioncini per il futuro. Ecco la prima giornata di ritorno del campionato di eccellenza Gironea, Castellammare Cus Palermo, Parmonval Resuttana San Lorenzo, Acragas Leonfortese, Nissa Casteldaccia, Sciacca Nuova Città di Gela, Mazzara Oratorio San Ciro e Giorgio, Don Carlo Misilmeri Profavara, Enna Mazzarese.